per la loro professionalità e anche per la gentilezza con cui hanno accompagnato i nostri lavori, ma anche per esprimere la mia riconoscenza personale e la riconoscenza del Presidente Mazzotti di Celso alle colleghe e colleghi, ci tengo a dirlo, di vari gruppi, certamente del mio gruppo, che hanno permesso di scrivere quella che tanti di noi ritengono davvero una bella pagina di questo Parlamento, ma forse non userà, ma io dico anche e esprimo un ringraziamento a quei gruppi che pur in dissenso hanno animato il nostro dibattito perché penso e spero sempre che domani ci si possa incontrare quando in discussione ci sono cose come i diritti umani che sono fondamentali per la nostra discussione e grazie, ho concluso, Signor Presidente, alla Sottosegretaria e il Sottosegretario che hanno dato il loro contributo in Aula e precedentemente in Commissione. Chi non riesce a votare? Follino Ciao chi? Cenni Carnevali Baruffi Pagano Bene, ci siamo? Chi è che urla no? Frusone Chi è?